Finisce in procura il braccio di ferro tra il comune di Roccadaspide e il distretto sanitario 69. Il vice sindaco Girolo Mauricchio infatti ha presentato un esposto all'autorità giudiziaria di Salerno contro la direttrice Giuseppina Arcaro. Ho portato all'attenzione della magistratura una serie di vicende che hanno depotenziato e reso inoperativo il nostro distretto, arrecando importanti danni ai pazienti e all'intera popolazione residente in un territorio interno molto esteso, ledendo in tal modo il diritto alla salute delle relative comunità, si legge nell'esposto inviato in copia anche alla direzione generale dell'asilo di Salerno. Il distretto ha svuotato il poliambulatorio di Roccadaspide, da cui sono state soppresse riabilitazione, allergologia, neuropsichiatria infantile, psicologia, oncologia, cardiologia, medicina dello sport e pneumologia, tanto che per l'autorizzazione dell'ossigeno liquido i pazienti sono ora costretti a recarsi presso l'ospedale di Eboli, ammonisce ancora auricchio nell'esposto, segnalando anche tempi d'attesa insostenibili dai 3 ai 7 mesi per le visite ginecologiche, urologiche, cardiologiche, ortopediche, reumatologiche, per le patologie legate al diabete e all'udito, oculistiche e geriatriche. Situazione drammatica secondo auricchio anche per la fisiatria, in quanto le visite domiciliari per gli ammalati allettati sono ferme da novembre. Tutto questo, conclude il vice sindaco rocchese, nonostante la regione Campania, nell'ambito del progetto sviluppo delle aree interne del Cilento, con incentivazione e riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, abbia finanziato interventi per oltre 2 milioni e 600 mila euro, riconoscendo le diseguaglianze sociali e di salute nella zona e le molteplici difficoltà dovute alla cattiva viabilità per accedere ai servizi.